Buongiorno a tutti, sono Alessandro Mantelli, sono presidente dell'associazione La Quintana Onus di Morano sul Po. Quest'anno, a causa degli eventi coronavirus, non abbiamo potuto fare il consueto campus di protezione civile con tutti i ragazzi, per cui abbiamo optato per una soluzione un po' più light, in modo da poter gestire in sicurezza il campus e abbiamo organizzato un campus di protezione civile assieme agli amici del gruppo di Casale. Siamo venuti a Varallo Sesia con sei ragazzi del campus delle edizioni passate che erano già diventati giovani volontari, a cui si sono aggiunti altri cinque ragazzi del campus dell'anno scorso che avevano raggiunto l'età per diventare giovani volontari, per cui abbiamo organizzato questa squadra di 11 giovani volontari. Siamo stati ospitati dall'Associazione Nazionale Alpini, la sezione di Varallo Sesia, e veramente abbiamo incontrato amici che ci hanno supportato in questi tre giorni, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto. I ragazzi sembrano entusiasti di questa esperienza. Ci daremo appuntamento al prossimo anno per la nuova edizione del Quintana Campus, dove sicuramente questa esperienza ci ha dato stimoli e nuove prospettive per un'edizione ancora più interessante, ancora più motivante per noi e per i ragazzi. Tre giorni immersi nella natura con questo panorama che vedete alle nostre spalle, vedere giovani che al giorno d'oggi hanno voglia di impegnarsi per imparare azioni che possono aiutare il prossimo non è una cosa scontata, è un qualcosa che ti rende orgoglioso e ti rende felice. A Varallo Sesia abbiamo trovato una comunità di alpini, una sezione alpini fantastica che ci hanno ospitato in maniera eccelsa e che sicuramente cercheremo di ricambiare la loro ospitalità anche a Casale Monferrato, anche sul nostro territorio. Un grazie veramente di cuore alla Quintana che ha messo in piedi questi tre giorni, che ripeto sono formativi per i nostri ragazzi, per tutti noi, ma anche a livello di territorio abbiamo modo di instaurare dei rapporti di scambio di rapporti che sicuramente svilupperanno.